Buongiorno, in questo video volevo fare notare la relazione che c'è tra Genesi, il primo capitolo di Genesi e il Vangelo di Giovanni. In particolare tra i versetti 1, 2, c'è tutto il primo capitolo. E' il Vangelo di Giovanni che ricorda il quarto Vangelo e si distingue dai sinottici. Vi voglio parlare di Bibbia per fare capire che il Crislam è anche il cristianesimo. Quindi parliamo della Bibbia corretta che sarebbe questa, non della Bibbia alterata dei cattolici e delle altre chiese. Allora, Genesi inizia, è il racconto della creazione. In principio Dio creò i cieli e la terra. Ora la terra risultò essere in forma e vuota e c'erano tenebre sulla superficie delle acque dell'abisso e la forza attiva di Dio si muoveva sulla superficie delle acque. E Dio diceva, si faccia luce, quindi si fece luce. Dopo ciò Dio vide che la luce era buona e Dio per una divisione fra la luce e le tenebre, eccetera. E' vero, tutto il primo capitolo di Genesi, anche il versetto 5, Dio chiamava la luce giorno, ma chiamò le tenebre notte, si faceva sera e si faceva mattina un primo giorno, parla del racconto della creazione, di come è nata la terra e di come è nato l'uomo. Quindi, diciamo che è un racconto abbastanza complesso. In che modo si collega il Vangelo di Giovanni? Noi sappiamo che Giovanni, quando redasse il suo Vangelo, riprese proprio il primo capitolo di Genesi. E introduce un tema che ha portato nel concilio di Nicia a molti cattolici, anche se poi Costantino, in punto di morte, si faceva battezzare da un vescovo ariano. Ma questo è qualcosa che nessuno dice. In principio era la Parola, la Parola era con Dio e la Parola era un Dio. Questi erano in principio con Dio, tutte le cose sono venute all'esistenza per mezzo di Lui. E senza di Lui neppure una cosa è venuta all'esistenza. Quindi Gesù viene creato prima del cielo e della terra. È il primo genito della creazione. È, in relazione al Vangelo di Giovanni, tutte le cose sono venute all'esistenza per mezzo di Lui. E senza di Lui neppure una cosa è venuta all'esistenza. Quindi Logos, verbo creatore. Ma non è Dio. È Dio che gli ha conferito questo incarico. Così come durante la sua vita terrena gli diede il potere di fare risorgere i morti, di comandare alle acque, di calmare le acque del mare, di camminare sulle acque. Quindi è il verbo creatore. Ma non è Dio. Come diceva giustamente Ario. In principio perché Gesù viene creato prima del cielo e della terra. Da che cosa risulta questo? Perché sappiamo che Gesù come primo genito della creazione, come figlio di Dio in senso adottivo, quindi sempre tenendo presente la teoria adiana, era un Dio minuscolo. Non viene detto era Dio padre. Perché Gesù ha un principio anche se viene creato prima del cielo e della terra. Perché quindi è con Dio fin dal principio, mentre Dio è prima del principio, non ha né inizio né fine. Da che cosa lo deduciamo? Quando dice, facciamo, Dio proseguì dicendo, facciamo l'uomo a nostra immagine secondo la nostra somiglianza. Non è un plurale maestatis. A chi si rivolge Gesù, cioè a chi si rivolge Dio. Dio si rivolge a Gesù che era con lui dal principio. Perché viene creato, non generato, l'errore è questo che fanno i cattolici. Gesù è creato in principio. Quindi prima di tutte le cose, poi l'opera della creazione, Dio la fa insieme a Gesù che è il suo primo genito. Quindi volevo chiarire questo. Più tardi farò un video dove chiarisco. Vi saluto.